L'Associazione Latinoamericana in Italia organizza a Teramo una serata a sostegno del popolo del Venezuela per l'emergenza a farmaci, con la proiezione del film Est a Toto Bien. Le notizie che arrivano dai tanti abruzzesi emigrati in Venezuela parlano di scaffali vuoti nelle farmacie e di ospedali senza più elementari strumenti chirurgici e presidi sanitari. A farne maggiormente le spese sono i bambini che stanno morendo al pari di quegli africani. In Venezuela c'è una grande crisi sanitaria, una grande crisi sanitaria da diversi anni. Dal 2014 si è accentuato ancora di più, i medicinali non si trovano. E se si trovano nel mercato nero, se si trovano costano carissimi. Adesso per esempio sta tutto a dollaro, quando loro guadagnano per esempio 3 dollari al mese. Che tipo di farmaci dovete mandare? Sono più necessari? Beh, il salvavita, anche antipiretici per la pressione, per il cuore, ogni tipo di farmaco, per la diarrea, anche perché ultimamente stanno tornando a cala tutte queste malattie che erano state develate. La provincia di Teramo è a fianco di questa associazione latinoamericana? Sì, noi sappiamo ben poco di quello che è la situazione in Venezuela, quello che ci hanno raccontato finora dai giornali. Il fatto sta che è comunque una situazione triste. La maggior parte di noi ha comunque delle conoscenze, dei parenti, dei familiari in Venezuela. Quindi ci raccontano di quanto sia difficile la situazione. Situazione precaria economicamente, è una situazione che questa associazione cerca di affrontare attraverso i suoi volontari, che appunto noi ringraziamo e sosteniamo, attraverso questi volontari per la raccolta di medicinali, che per noi sembra una cosa semplice. Invece lì è un problema trovare medicinali anche per un mal di gola, per malattie croniche, per soggetti che sono appunto malati, addirittura che non arrivano proprio medicine per i malati oncologici. L'associazione Ali raccoglierà i farmaci e le donazioni saranno destinati alla Caritas Venezuela Caracas, che provvederà poi ad inviare le filiali sparse in tutto il territorio.